e ragazzi siamo seconda struttura all'ospedale adesso vediamo di di entrarci qua già aperto mamma mia è uno in un padiglione un ingresso di un padiglione sicuro bellissimo camino ma iniziano i documenti maggio 2004 retribuzione collaboratori va l'ospedale guarda divisa questo è un ufficio madonna e questa era la camera iperbarica mamma mia adesso tiro fuori lo stabilizzatore col faro perché ma donna qualcuno l'altro è tutto panno è dato fuoco si si guarda qua incendio tutto anche qua incendio mamma mia qua ha bruciato tutto qua è bruciato tutto ragazzi adesso facciamo sto pezzettino qua guarda tutti gli schedali si ma hanno lasciato tutto fornitori 2007 2008 quindi abbandono 2012 2013 io ti ho detto che quindi pochi anni c'è 2013 la mia vita c'è venuta 10 anni fa qua era ancora tutto funzionante quindi e si fino a 10 anni fa funzionava tutto posta in entrata vedi tutto per riprendita però spiegami sta cosa questo è bruciato tutto come non ha fatto a non bruciare questi perché qui ha preso calori solo il soffitto non è partito ah ok mamma mia apocalips now adesso aspetta che prendo prendo lo stabilizzatore facciamo un attimo di pausa bello eh vedi che ha bruciato solo la controsoffitta si chiamano bello anche qua ha bruciato tutto ah questo è un tetto infatti mamma mia poi dopo non dite che dico mamma mia che non è vero facciamo un attimo di pausa facciamo un attimo